bene amici di hd blog sfida a4 lgg4 htcm 9 samsung s6 edge e il sony z9 plus ovviamente sfida video registrati alla massima definizione quindi 4k ci stiamo muovendo per valutare la stabilizzazione e ovviamente sarà il video esteso classico quindi faremo il giro oltre alla via dentro all'androne buio per valutare i vari livelli e come girano i video e m9 è stato aggiornato ho ricevuto l'aggiornamento che dovrebbe migliorare la fotocamera eccoci qua nell'ascensore buissimo ancora più buio quando si chiuderanno le porte mi sembra che il g4 abbia perso il fuoco tutti i video ripeto li sto facendo a in 4k attenzione z3 il primo che ci lascia z3 plus perché la fotocamera sta disattivata per consentirne il raffreddamento mi è già capitato un paio di volte oggi fa caldo è vero ci sono 40 gradi però diciamo che non è propriamente il massimo quel messaggio che ci viene fuori vediamo se riesco a farla ripartire nel frattempo l'audio ovviamente si ascolta dagli altri telefoni niente fotocamera fotocamera non disponibile defiance ok si è aperta la porta l'ascensore sole contro sole pieno e invece ci giriamo e ci mettiamo a favore di sole e proviamo prima di tutto lo zoom proviamo prima con il g4 dove lo zoom massimo è 8x eccolo qua poi m9 ecco qua m9 e poi l'S6 ovviamente non possiamo farlo con lo z3 plus che è assolutamente defunto durante il test ripeto confrontone tra top di gamma di metà 2015 15